cari amici del friuli cari amici della carnia e soprattutto cari amici dello zoncolang buon day da lady allora ho visto come era il tempo giù sotto ho detto qui oggi cattacicova e sono salito su in velocità alla sella zoncolang e questo è quello che si vede da qui il mare di nuvole questa è la parte di ovaro qui oggi non manca niente ci abbiamo tutto sullo zoncolang il mare di nuvole quella lì è la luna questa qui siamo sopra a vaskeletto qui fa caldo fa veramente caldo sempre in pantaloncini corti guardare e ammirare questo è spettacolo della natura e zoncolang e qui il mare di nuvole sopra la val del but che scende giù fino a trieste ecco intanto qui in sella stanno arrivando moto macchine perché probabilmente sono di passaggio e sanno e anche sanno che arrivando su fino a qua c'è questo po po di spettacolo giù siamo nel grigiore più totale e qui siamo nel sole scalda scalda da dio ve lo è un filo di aria si sta benissimo e questo è lo spettacolo che si vede ti viene voglia di andare là sul monte di riu e buttarti dentro di questo mare di nuvole è una cosa spettacolare è una cosa spettacolare non c'è non c'è altra altra definizione non c'è altra definizione ancora ho dovuto farmi dare la macchina della ditta perché io sono senza macchina altrimenti dovevo venire su a piedi più c'è spettacolo no no spero di avervi fatto un bel regalo a voi giù che siete nella nella penombra e alla prossima ciao ciao